Vai, cammino. Maestà, come amministrate la giustizia? Non c'è solo il tribunale, qui. Non c'è un solo tribunale. Non c'è un solo tribunale. No, non c'è un solo tribunale, manco uno. Non c'è un solo tribunale, qui, nei processi, mai. Non ci sono prigioni. Dedichiamo tutto, tutto, le nostre risorse alla scienza e alla matematica. Cacampo, amico mio. Beh, non devi guardare, devi rivolgere a te. Cacampo, amico mio. Il castello in cui sono nato non vale il paese in cui siamo. Però la signorina Culegonda non c'è. Se restiamo qui, saremo come tutti gli altri. Mentre se torniamo nel nostro mondo carichi di ciottoli, del delberato, saremo più ricchi di tutti i re messi insieme. Non dovremo più tenere nessuno. E potremo facilmente riprenderci la signorina Culegonda. Fate una sciocchezza. So bene che il mio paese è poca cosa, ma quando si sta passabilmente da qualche parte, bisogna rimanerci. Non ho sicuramente il diritto di trattenere dei florestieri. È una tirannia che non rientra nei nostri costumi e nelle nostre leggi. Tutti i miei uomini sono liberi. Maestà, potremmo avere il dono da voi, prima di lasciarvi, dodici sacchi pieni dei vostri ciottoli? Ah ah ah, proprio non capisco. La passione per la vostra gente d'Europa hanno il nostro fango giallo. Ma portate via quello che volete. È un buono, un buono, un buono, un buono, un buono di faccia. Provi faccia, c'era un modo di dire. Nel momento, aspetta. Provi faccia, stanno tutti e tre. Un attimo, però, si andrà le carte e la musica. Inizio di te disco.